Fra Gianluigi, 2 febbraio, festa della vita consacrata. Qual è il senso di questa celebrazione? È un senso molto bello, molto profondo, che viene dall'Oriente e che la Chiesa ha fatto suo anche tra di noi. È il momento in cui diciamo in modo concreto che Cristo è la luce del mondo. E in questa festa, in questa celebrazione, saremmo presenti noi, vita consacrata, presente nella Diocesi, nella sua espressione e nella diversità dei carismi. Vita consacrata e vocazione sono un tutt'uno. Quando si parla di vocazione si intende una vocazione a tutto campo, non solo quella religiosa fra Gianluigi. Sì, perché quando si incontra Cristo, la vita non può che cambiare. Ed è quello che testimoniamo noi, è che quando accade questo, ci fa fare delle cose straordinarie. Suor Lorenzo, una celebrazione importante dove parteciperanno tutti gli ordini religiosi, come si svolgerà la celebrazione? Gli ordini religiosi si incontrano un pochino prima della celebrazione, per stare un po' insieme, per condividere le loro gioie, le loro preoccupazioni, insieme al nostro Vescovo, il quale ci illumina già, ci porta una sua parola di conforto, di aiuto. Poi saliamo sopra perché l'incontro si terrà nel Salone Fanelli e alle 18 poi saliamo per la celebrazione insieme al nostro Vescovo. Momento simpatico che è quello del riconoscimento delle lunghe carriere vocazionali. Ci sarà anche quest'anno? Sì, saranno poche quest'anno e il primato ovviamente sempre delle salesiane, io infatti ho sempre detto che avrei sbagliato congregazioni, perché sono quelle che arrivano a fare 60, 70, però è bello perché è un segno che noi vogliamo rendere visibile, proprio perché siano un segno di testimonianza anche per le più giovani. Una celebrazione ovviamente che non è riservata solo agli ordini religiosi e alla vita consacrata, ma che è aperta a tutti perché ognuno di noi ha una sua consacrazione alla vita. Ore 18, nella Chiesa Cattedrale di Cristo Re, chi non può essere presente, la nostra emittente metterà in diretta la celebrazione.